Parliamo nuovamente di fotografia di interni e in particolare di foto di interni per aziende. Oggi vado a farvi vedere uno shooting realizzato proprio per un'azienda. Vi mostrerò i tratti salienti della post-produzione e durante andremo anche a commentare alcuni degli aspetti tecnici di questo shooting che è una cosa che ho già portato sul canale, non è niente di nuovo, sono tutte cose che abbiamo già visto, però in questo caso vado a mostrarvi la loro declinazione quando si va a lavorare per un'azienda invece che per un privato. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia, in particolare foto di interni e vi ricordo a questo proposito che c'è anche online su Amazon il mio manuale di fotografia di interni, lo trovate semplicemente cercando fotografia di interni più nome e cognome dell'autore. Vi ricordo anche che se volete sostenere questo canale in maniera un po' meno impegnativa e quindi completamente gratuita è sufficiente che clicchiate il bottone iscriviti qui sotto e se cliccate anche la campanella siete sicuri di non perdervi gli aggiornamenti. Andiamo a incominciare. Benissimo, eccoci qui all'interno del mio computer, questa è l'interfaccia di Photoshop, ho già inserito tutte le immagini. Come potete vedere qui abbiamo una serie di scatti che sono i nostri scatti in bracketing, in questo caso sono cinque perché avevo una scena con un contrasto molto elevato. Quindi vado a individuare i cinque scatti che quindi sono da qui a qui, quindi vado a selezionarli tutti. Questi qui li butto via perché vedo che avevo fatto una serie di scatti con esattamente la stessa inquadratura, quindi la seconda volta probabilmente li ho fatti meglio. Ecco qui i miei cinque scatti. Vado a fare tasto destro, merge to HDR, il comando è Alt più M. Se non vedete che faccio questo procedimento e parte direttamente la sequenza vuol dire che ho fatto Alt più M per comodità. Questo ovviamente è un procedimento lungo e noioso per cui spesso e volentieri lo taglierò nel corso del video per non tediarvi facendovi vedere la barra di caricamento. Ora la prima cosa che andiamo a fare, selezioniamo tutto il nostro shooting, andiamo ad applicare il nostro preset che ho creato io per il 14-35 mm, come potete vedere rimuove gran parte della distorsione della vignettatura. Questa è la prima cosa da fare. Andiamo poi a selezionare profilo colore Adobe Standard, così abbiamo tutto quanto in linea. Un'altra cosa che potremmo fare è mettere Vibrance 20, Saturation 4 e Clarity 6. Ok, con queste impostazioni applicate possiamo andare a selezionare i nostri scatti e fare i nostri HDR. Ok, come sempre al termine di questo noiosissimo procedimento vediamo una nuova finestra, la ingrandisco un pochino così la vediamo meglio. Qui vediamo un'anteprima del risultato finale. Non allineiamo le immagini ma applichiamo gli auto settings, niente deghosting perché non si muoveva niente, andiamo a unire le nostre immagini. Vi confesso, ecco andiamo a salvare un DNG nella stessa location, vi confesso che sto facendo un po' fatica, il mio computer sta facendo fatica perché le foto di Canon EOS R pesano veramente tantissimo. E come potete vedere ci mette anche tantissimo a processarle perché sta comunque unendo i cinque scatti. Vedete che qui c'è una barra di caricamento che rimane inchiodata per diverso tempo. Questa è una cosa che mi sta facendo rallentare molto nel mio flusso di lavoro e quindi sto pensando addirittura di non usare Canon EOS R per fare questo tipo di lavori ma di tornare a usare Canon EOS 6D oppure di passare alla R6 addirittura proprio per questo motivo perché effettivamente i megapixel a me piacciono, avere tanta risoluzione a me piace però nel momento in cui devo unire cinque scatti forse è un po' troppo. Almeno è un po' troppo per la mia macchina, nel momento in cui avremo dei computer più performanti andrà bene. Forse possiamo cominciare lo stesso a fare delle cose che farei comunque come mettere il contrasto a zero. Questa è una cosa che faccio sempre. Andiamo anche a ridurre gli highlights e qui sta ancora pensando. Io faccio le mie modifiche, apro un pochettino le ombre ma vedete che non l'ha ancora finita di processare e lo capiamo anche... Ecco, adesso ha finito. Lo capiamo anche perché c'erano ancora la vignettatura e la distorsione. Ora io vado a recuperare un pochino di cielo, quindi vado a togliere un pochettino di luminanza e ad aggiungere un pochino di saturazione dai blu in maniera tale da... Vedete, c'era un bel cielo fuori con le nuvolette, ci terrei che si vedesse in questo scatto per cui vado a portare a termine un procedimento di questo tipo. A questo punto posso andare nel pannello geometri e posso andare a raddrizzare ulteriormente le mie linee perché le ho raddrizzate, le ho tenute più dritte possibile in camera in fase di scatto però ho tolto un po' di distorsione e adesso vado a perfezionarle andando a limmare proprio il dettaglio quindi vado a scegliermi due linee verticali che reputo perfettamente dritte le allineo in questo modo, vedete che anche geometri fa un po' fatica ma l'allineamento è completato e direi anche con successo quindi andiamo a vedere un prima e un dopo, direi che c'è decisamente un miglioramento l'immagine è abbastanza ricca proprio come la volevo e quindi posso ritenermi contento. Prossima serie di immagini, quindi vado a individuare la prossima foto quindi vado a selezionare le quattro successive e di nuovo vado a unirle come HDR qui nuovamente abbiamo la nostra barra di caricamento che di nuovo non sto a farvi vedere perfetto, ecco qui la nostra nuova anteprima ovviamente stesse cose di prima, quindi niente allineamento, niente ghosting andiamo a unirle, vedete che ci mette sempre un pochino a pensare anche se questo computer è molto scattante normalmente ma queste immagini pesano veramente tanto e di nuovo vedete che la sta ancora processando quindi non ha veramente terminato vediamo l'alert e la barra di caricamento e vediamo ancora la vignettatura e la distorsione anche se sappiamo benissimo che le abbiamo già rimosse ora io potrei andare a prendere la prima immagine che avevo lavorato e potrei andare a selezionare la seconda tenendo premuto command non shift ma command quindi non bisogna andare a selezionarle tutte ma bisogna andare a... io qui ho sbagliato qualcosa perché non mi da la possibilità di fare sync settings vedete che rimane in grigio invece che in bianco perché probabilmente ho premuto male command quindi adesso vado a riselezionare la prima ed è selezionata torno giù e adesso tenendo saldamente premuto il tasto command clicco la seconda a questo punto vedete infatti che sync settings è disponibile a questo punto io posso sincronizzare tutte le impostazioni tra le due foto che quindi risultano assolutamente identiche per quanto riguarda le impostazioni che ho immesso e vediamo infatti che è sostanzialmente giusta adesso vado a dargli solamente geometri a mano perché potrebbe essere, anzi probabilmente visto che è cambiata l'inquadratura, probabilmente è differente quindi in questo caso il geometri glielo vado a fare a parte e qui sarà un po' un problema perché questo scatolone impilato con il logo dell'azienda secondo me non era perfettamente dritto quindi io mi rendo conto che dovrà sembrare dritto perché se no risulta sgradevole quindi cerchiamo di fare una media tra la tenda e lo scatolone però non era perfettamente dritto e quindi questo potrebbe dare luogo a dei problemi ecco, sì, così secondo me è la cosa migliore mi sembra buono bene, ormai si è capito come funziona il gioco quindi passiamo alla prossima inquadratura come vedete ho giocato un pochino con la composizione quindi non mi sono limitato a farle tutte dritte sono anche andato a cercare di stortarle un pochino di prendere gli angoli andiamo a unirle come al solito ed ecco qui la nostra anteprima una volta lanciata la nostra anteprima possiamo andare a unire le immagini e di nuovo ci verrà creato un DNG che tenete conto che sono pesantissimi questi DNG sono l'unione di 5 foto da 30 MB ciascuno per cui pesa, secondo me pesa 120 MB uno di questi DNG per cui andiamo a fare lo stesso procedimento di prima copiamo le impostazioni dalla foto precedente stavolta faccio direttamente potrei fare direttamente ALT-S d'ora in poi se non mi vedete farlo è perché sto facendo ALT-S da tastiera direttamente e vedete che le impostazioni vengono copiate e sono già pressoché corrette non mi stupirebbe, vi dicevo, se un DNG di questi pesasse fino a 120 MB perché comunque pesano veramente tanto il computer sta facendo molta fatica a processarli e nel frattempo io vado a raddrizzare queste linee ne devo scegliere una che reputo essere dritta per andare a matchare le verticali per questo motivo, a causa del peso io vi consiglio in shooting di questo tipo dopo che il cliente le ha provate vi consiglio veramente di buttarli via i DNG perché pesano veramente troppo per essere stoccati e perché comunque non credo che il cliente chiederà modifiche sul DNG una volta che sono stati approvati una volta fatta questo sviluppo digitale credo che si possano non toccare mai più i DNG se è stato fatto correttamente ovviamente è importante farlo correttamente procediamo e arriviamo alla prossima serie come potete vedere questa era una saletta che era anche carina per cui non è stato per niente brutto giocarci vado a selezionare il mio prossimo set di immagini quindi sempre di 5 in 5 vado a unirle come si conviene ecco che come sempre viene lanciata la mia nuova anteprima come vedete nell'anteprima ci sono ancora i difetti perché lui sta andando a prendere il file originale quindi senza i preset i preset vengono applicati una volta che io ho salvato quindi adesso io vado a salvare lui mi crea un nuovo file me lo importa automaticamente in libreria me lo tiene già in ordine per nome quindi viene posizionato o prima o dopo del set che ho selezionato adesso come potete vedere c'è sempre il solito alert però anche con l'alertativo io posso già copiare le impostazioni dalle immagini precedenti che ho già editato incollo tutto sostanzialmente tranne geometri perché quella è una cosa che vado a rifare a mano infatti adesso andiamo a prendere le nostre linee verticali e andiamo a sistemarle però forse prima possiamo fare qualche piccolo micro aggiustamento ecco adesso ha finito di processarla quindi entra in funzione anche il preset qui secondo me possiamo fare una serie di cose cioè fatemi correggere le verticali prima che tanto quello va fatto comunque e questo sappiamo come si fa andiamo a farlo così non ci pensiamo più qui dobbiamo decidere cosa fare perché vedete quello che vi dicevo prima questo cavolo di cassone è storto quindi io devo decidere se tenere dritto qualcosa che era dritto veramente però questi scatoloni maledetti poi sembrano storti nella foto oppure posso pensare di raddrizzare gli scatoloni e tenere più storto qualcos'altro sperando che non si noti che vedete se io raddrizzo il condizionatore questi affari si vede che sono storti quindi adesso vediamo ci giochiamo un attimo perché io potrei andare a raddrizzare le tende ma poi sarebbero storti ancora proviamo a raddrizzare questi vediamo che cosa succede perché se noi andiamo a raddrizzare questi sembrano ancora storti a me sembrano storti a vederli forse il pavimento che dà anche questa illusione però io non li vedo dritti questi cavolo di affari sarà che li vedevo stortignacoli anche direttamente in camera e rimango suggestionato però non mi convincono probabilmente sono anche visivamente da un punto di vista grafico posso anche raddrizzarli però ci sarà sempre qualcosa che sembra un po' storto e questa è anche un'immagine carina quindi è un po' un peccato potrei andare a vediamo un prima e un dopo voi cosa dite? ci si può accontentare? potrei raddrizzarli dopo in photoshop potrei andare a fare una selezione e raddrizzarli ulteriormente probabilmente otterrei un risultato migliore di così c'è un'altra cosa però che potrei andare a fare nel frattempo vado a schiarire quest'area e lo faccio con un gradiente facciamo così un gradiente lineare in questo modo adesso così è troppo andiamo a diminuirlo un pochino perché voglio dare una schiaritina ma non voglio dare una flashata esagerata una cosa del genere abbastanza blanda però almeno ho schiarito un po' quest'angolo che altrimenti veniva molto buio probabilmente così può andare non credo che si noti quella stortatura degli scatoloni cioè si nota ma non esageratamente ma passiamo alla prossima immagine qui come potete vedere ci sono ancora i cassoni un po' storti qui ho già fatto il merge to HDR perché è inutile che ve lo faccio vedere tutte le volte ormai avete capito come si fa qui andiamo a fare semplicemente il geometri sulle linee vado a scegliere qualcosa che è dritto quindi vado a prendere la porta perché è l'unica linea che ho sul versante destro del fotogramma dove ho una linea che sono sicuro che è dritta per cui queste ok così sono raddrizzate aveva dei bei colori questa sala però vedete qui cos'è successo questo è il mio braccio questa è una cosa che non dovrebbe esserci però purtroppo qui abbiamo a che fare con oggetti riflettenti di metallo una cosa che a me piace molto io adoro gli oggetti riflettenti di metallo mi piacciono molto questo tipo di superfici però qui non ci sta bene perché rende assolutamente palese la mia presenza e non è bello da vedere una macchia di colore che non ci sta secondo me per cui io vado a prendere un pennello tolgo la saturazione vado a eliminare quella macchia di colore in questo modo sì si vede che c'è una forma però non si capisce che sono io in altri punti mi sembra di vedere che ci sono dei riflessi ma non si capisce che c'è della carnagione qui vado a rifare lo stesso giochino vado a schiarire un pochettino quest'area non troppo proprio come prima e questo è il prima e il dopo direi che possiamo riputarci soddisfatti anche dell'allineamento procediamo e vedete che abbiamo un altro angolo molto interessante del tavolo anche qui ho già anche miscelato le impostazioni prendendole dalla foto precedente è inutile che vi faccio rivedere sempre le solite cose andiamo a vedere solo qualche miglioria soprattutto sull'allineamento perché in questo caso era abbastanza difficoltoso siccome non ci sono linee perfette perché la tenda non è perfetta io vado a prendere le linee di questo muro per andare a raddrizzare l'immagine e spero che il risultato sia soddisfacente perché linee sulla destra non mi fido tanto in quanto la tenda era un pochino mossa e l'ombra sulla tenda pure quindi non mi fido tanto di quello preferisco andare a prendere il muro mi sembra comunque soddisfacente andiamo a vedere il prima e il dopo mi sembra che vada bene per cui ci accontentiamo e la teniamo così procediamo e vi faccio vedere una visuale piuttosto insolita del tavolo questa qui è una foto un po' cacciarona che ho voluto fare una simmetrica bassa sul tavolo che secondo me ci sta perché rende l'imponenza ora una cosa che assolutamente andrò a fare è pareggiare tutte queste linee perché qui abbiamo le linee orizzontali e verticali che dovranno essere pareggiate quanto più possibile per rendere la simmetria dello scatto che avevo in mente ci sono qui c'è questa barra di caricamento infinita come sempre c'è una cosa che non mi piace qui l'altezza delle sedie vedete che è diversa purtroppo alcune di queste sedie non funzionavano avevano lo stantuffo rotto e quindi non ho potuto pareggiarle se no l'avrei fatto perché così storte mi danno un gran fastidio ed eccoci qui la nostra immagine ha finito di processare a questo punto andiamo a raddrizzarla come promesso qui ci sarà un po' di lavoro da fare dobbiamo scegliere le linee da andare a raddrizzare perché qui ce n'è diverse andiamo a prendere questa prima che mi sembra abbastanza inevitabile per raddrizzare le verticali poi andiamo a prendere questa seconda e così le verticali ci dovremmo essere per le orizzontali io vado a prendere la più vicina possibile al margine superiore del fotogramma qui questo è un controsoffitto di quelli sapete fatti di pannelli quindi non è perfettamente dritto andiamo più precisi possibile questo tavolo qui io non mi ricordo se era un po' stortignacolo lui oppure se è distorsione residua del barilotto della lente visto che ero molto molto vicino ad ogni modo credo che questo sia il meglio che sono in grado di cavare da questa foto senza andare a distruggerla distorcendola ulteriormente vediamo dal prima al dopo andiamo avanti vedete che abbiamo cambiato area questa qui è la reception reception che è stata andiamo a selezionare i nostri 5 scatti reception che è stata pulita senza pietà dal sottoscritto perché era piena di cose qui dovremmo andare a fare un bel lavoro per pareggiare il dentro e il fuori abbiamo delle luci molto brillanti e delle ombre molto scure come vi dicevo è stata pulita senza pietà perché c'erano delle cose che non volevamo assolutamente vedere quindi c'erano degli oggetti delle scatole dei fogli delle riviste dei Deplian tutte cose che sono state tolte perché disturbavano la composizione e non aggiungevano nulla ma anzi semmai sottraevano qualcosa quindi sono state eliminate con il massimo sprezzo ok come sempre vedete che la nostra immagine sta processando perché pesa molto andiamo a fare qualche sistemazione perché qui non è più la stessa scena di prima quindi dobbiamo mettere delle impostazioni nuove rifarlo da capo di una cosa sono sicuro che leviamo tutto il contrasto perché in una fotografia HDR di interni io sto cercando di avere una foto a basso contrasto quindi introdurre del contrasto manualmente è proprio l'ultima cosa che voglio anzi come potete vedere io vado a togliere le luci e aprire le ombre quindi addirittura ne tolgo ancora di più di contrasto io proprio non lo voglio il contrasto vorrei teoricamente vorrei un histogramma piatto qui vedete che c'è ancora la vignettatura perché l'immagine sta ancora processando e quindi non è ancora entrato in funzione il mio preset che rimuoverà automaticamente vignettatura e distorsione o quantomeno ci proverà questo preset lo vedremo più tardi è stato pensato per il 14 mm quindi funziona solamente se abbiamo scattato a 14 mm se abbiamo scattato dai 15 mm in su useremo un altro preset perché a quel punto non sarà più necessario questo preset così distruttivo per rimuovere distorsione e vignettatura che saranno già assenti dai 15 mm in su quindi è importante ricordarselo vi darò una dimostrazione più avanti perché mi ricordo che c'è una foto che era affetta da questo problema ora chissà quanto ci mette ancora a processarla vedete vedete perché sto pensando di passare a una camera un pochettino più easy come file perché questi pesano veramente tanto benissimo vedete che la linea è già molto più dritta già da sola quindi noi adesso andiamo a renderla dritta otticamente però più o meno già ci siamo su quest'altro lato scelgo questo mobiletto perché non ho tanti riferimenti in alto quella di sopra della tendina non è una buona cosa non vado ad allinearmi con quella vado piuttosto ad allinearmi con qualcosa di solido e così ci dovremmo essere come potete vedere l'immagine mantiene un buon contrasto e quindi avrei forse dovuto fare sette scatti in questo caso perché il fuori era veramente molto luminoso ovviamente è pienamente accettabile così e intendiamoci adesso io potrei andare selettivamente a beccare qualche verde e diminuire la luminanza in maniera tale da renderlo un po' più presente potrei fare la stessa cosa con i blu del cielo quindi vado a vado a cercare di scurire il fuori e portare fuori un pochettino di dettagli così secondo me è il meglio che riesco a fare con gli scatti che ho ed è assolutamente accettabile quindi va bene così avrei potuto fare sette scatti ma sarebbe diventato oltremodo impegnativo e troppo pesante ora una cosa molto interessante che mi ricordo questo set di immagini io l'ho scattato due volte perché vedete che l'ho scattato sia con le luci accese sia con le luci spente il risultato è abbastanza diverso ora devo dire che io notoriamente preferisco le luci accese quando scatto interni perché danno un qualcosina in più aggiungono colore aggiungono dei punti luce fanno vedere che la sede è viva accesa brillante in questo caso ci sono anche dei contro però perché ci sono delle ombre che non mi piacciono tanto quindi potrei miscelare le due immagini e tenere le luci accese ma andare a eliminare un pochettino di riflessi per esempio dai vetri dietro che non mi piacciono tantissimo quei riflessi potrei andare a eliminarli andiamo avanti andiamo al prossimo set quindi qui abbiamo la nostra prossima immagine che è semplicemente un'altra angolatura della stessa scena andiamo come potete vedere a miscelarla sempre nella stessa maniera andiamo a prendere questa volta le impostazioni dello scatto precedente perché adesso è la stessa scena quindi possiamo andare a copiare le impostazioni dallo scatto prima quindi possiamo andare a selezionare lo scatto prima e poi con tenendo premuto command andare a tenere premuto alt s per copiare le nostre impostazioni non sono perfettamente uguali questa qui è un'altra angolazione c'è meno finestra e quindi c'è meno luce per cui adesso andiamo a bilanciarla un pochino aprendo un pochettino i toni scuri soprattutto bisognerebbe anche andare a mitigare quei punti luce che sono un po' troppo chiari però insomma con gli highlights siamo già al limite diciamo che può anche andare bene così perché secondo me grosso modo ci siamo quindi adesso andiamo semplicemente a raddrizzare quello che dobbiamo raddrizzare con il nostro pannello geometri in questo caso io raddrizzo questo pannello anche se non credo che fosse perfettamente dritto rispetto al resto e come secondo punto prendo il desk della reception vediamo se vediamo se la resa è ottimale perché secondo me questo pannello rosso non era perfettamente verticale però prendiamo lui come riferimento perché se lo tengo storto si vede tantissimo in foto che lo sto tenendo storto quindi vorrei raddrizzarlo idealmente vediamo adesso come si comporta appena si decide a processare l'immagine perché questa è una cosa che ci mette sempre un pochettino a fare perché è un procedimento deve muovere tanti pixel su una foto che è già molto pesante quindi ci mette sempre un pochino si è interrotta la registrazione quindi non sapremo mai se l'avevo raddrizzata giusta oppure no ma fidatevi di me passiamo alle immagini dell'esterno come potete vedere qui ho già fatto un minimo di lavorazione perché queste sono cose che faccio sempre ho tolto un po' di alte luci ho schiarito un po' di ombre adesso andiamo a raddrizzare tutte queste immagini che come potete vedere ho scattato in verticale perché? perché avevo un cancello alle spalle e quindi non riuscivo a indietreggiare più di così per cui ho dovuto scattare per forza in verticale prendendo tanto pavimento che non mi interessava però almeno in questo modo riuscivo a prendere la parte superiore che invece mi interessava ora qui vedete che se io allineo vedete che non funziona a dovere non fa quello che dovrebbe perché rimane tutta storta e questo perché secondo voi adesso la tiro un po' giù per farvela vedere meglio perché non sta funzionando ve ne ho già parlato prima il motivo per cui non sta funzionando e che vi confesso ci ho anche messo un po' a capire perché poi non me lo ricordavo il motivo è che non ho scattato a 14 mm ho scattato a non me lo ricordo neanche più forse a 35 il punto è vedete che io avevo applicato una distorsione apposta per ridurre l'effetto cuscinetto della mia lente a 14 mm quindi nel momento in cui non sto scattando a 14 mm ecco che devo modificarlo questo parametro quindi rimuovo quella distorsione vado a fargli rianalizzare l'immagine e vado a raddrizzarla vedete infatti che adesso è perfettamente dritta e quindi qui posso andare a rimuovere questa modifica che avevo fatto vedete che così è perfettamente dritta e qui non c'è bisogno di quella distorsione che avevo introdotto per pareggiare il cuscinetto della lente qui credo invece di essere tornato a scattare a 14 mm perché di nuovo sto scattando in verticale e come vedete non riesco a prendere l'edificio per intero perché ho un cancello alle spalle e non posso indietreggiare più di così per cui quello che mi tocca fare è scattare in verticale prendendo grosso modo l'ingresso con un po' di cielo che era molto carino quindi vado a fare quello che posso ma non riesco a catturarlo tutto per intero da questa angolazione cosa che mi dispiace molto perché poteva essere una gran bella foto qui vado a cercare di recuperare un pochino di cielo perché il pavimento non mi interessa non me ne frega niente del pavimento invece vorrei un po' più di cielo queste probabilmente verranno comunque rifilate quadrate ecco qui ho esagerato verranno rifilate quadrate perché almeno vanno bene qui vi faccio vedere come mai non riuscivo a prenderlo intero vedete cioè ci riesco a malapena ma a malapena in orizzontale ed è storta è bruttissima quindi non la userò e questa qui è la prossima come potete vedere è una foto decorosa e va bene si vede vedete c'è il cancello dietro per cui io non potendo allontanarmi più di così non ero in grado di catturarlo per intero perché ho cercato di prendere un po' di vegetazione un po' di interno per far vedere comunque anche l'ambiente per far vedere che è un'azienda carina ha una bella sede un bel interno e anche un bel esterno dove ci si può fermare a fumare la sigaretta a fare due chiacchiere anche qui recuperiamo un po' di cielo ma non troppo e insomma grosso modo le foto sono tutte su questo tenore questa qui andando nell'angolino sono riuscito a prenderla intera non so se la useremo perché ci sono queste auto di mezzo che non potevo chiedere di spostare perché avrei dovuto fare interrompere il lavoro a tutti quindi non l'ho fatto qui ci sono queste auto che ingombrano la via però qui sono riuscito a prendere l'edificio per intero quindi questa in realtà a livello tecnico probabilmente è l'immagine migliore che sono riuscito a catturare dell'edificio ed era l'unico punto da cui sarei stato in grado di farlo qui vado a giocare un pochino con la vignettatura perché la vedo ancora e non capisco come mai perché c'è tutta quella vignettatura io credevo di averla già mitigata invece c'è di nuovo andrò a rimuoverla in photoshop da quell'angolo in alto a destra perché non mi piace assolutamente non va bene però evidentemente il preset qui non sta lavorando come dovrebbe posso provare a spostarla un pochino anche per centrare meglio l'edificio però sono proprio al limite quindi lo lascerò così mi devo accontentare altro lato come potete vedere da quest'altro lato anche qui riesco a prendere quasi tutto l'edificio però c'è un portico sulla sinistra dove gli impiegati posteggiano le bici e quello non riesco a prenderlo per intero e questo mi secca da morire quindi anche qui mi devo accontentare applico i miei preset vedete anche qui l'edificio era largo così quindi capite bene che se lo prendo a malapena in orizzontale in verticale non ce la facevo qui era passato un nuvolone brutto e quindi questa mi sa che la butterò qui queste sono immagini che vi faccio vedere un passant perché questo era il di fronte di questa azienda dove sono stato a fare fotografia di interni e ve lo faccio vedere solamente per mostrarvi quanto si può maltrattare questo file qui stiamo parlando di Canon EOS R quindi una fotocamera che a me piace abbastanza perché mi dà un file che è praticamente uguale a quello della mia adorata 5D Mark IV quindi un file bellissimo che puoi maltrattare in tutte le guise con una gamma dinamica che mi piace molto molto bello vedete quanto si riesce a recuperare e come sono belli i colori proprio così senza neanche fare troppo è già molto molto bella così e vedete quanto dettaglio mantiene sia nelle nuvole sia nelle ombre degli alberi quindi è una macchina veramente molto bella secondo me qui unita al 14-35 è una lente che è una lente ottima per carità però non è eccelsa devo dire che mantiene una buona nitidezza su tutto il fotogramma devo anche dire che la macchina scusate che la lente consente anche di fare un pochino di macro come potete vedere qui io sto scattando a f10 quindi sono anche molto chiuso però riesco ad avvicinarmi moltissimo al soggetto e avere comunque uno sfocato gradevole sullo sfondo se avessi scattato a tutta apertura sarebbe stato ancora più pronunciato vi faccio vedere anche questa immagine in cui andiamo a vedere il recupero sulle nuvole e sulle cime degli alberi è veramente notevole e qui vado a unire le impostazioni vado a copiare le impostazioni per farvi vedere questo secondo scatto questo niente era il campo davanti all'azienda e l'ho trovata una scena molto molto carina da bravo milanese che vive nel cemento bene finalmente siamo usciti dal mio computer dopo questa sessione interminabile come avete potuto vedere le cose sono sempre le stesse bisogna fare sempre le stesse cose quando si fa fotografia di interni ci vuole un po' di accortezza in fase di scatto bisogna farla più giusta possibile più dritta possibile in fase di scatto ovviamente se canniamo l'esposizione è inutile che facciamo il bracketing perché poi torniamo a casa con le foto tutte sballate vero anche che fare il bracketing ci dà un po' di sicurezza in più perché su cinque foto porca miseria ne avremo azzeccate almeno tre ne abbiamo cannate due va bene però possiamo quanto meno giocarcela con tre quindi è una sicurezza in più io non ho usato i cinque stop per la sicurezza perché le mie esposizioni erano giuste ho usato i cinque stop per avere la massima gamma dinamica possibile in realtà non è vero potevo fare sette fotografie invece di cinque però mi sembrava veramente troppo inoltre devo anche spezzare una lancia in favore di quelli che mi dicevano che 30 megapixel sono troppi io sto lavorando con Canon EOS R e devo dire che la mia macchina il mio computer fa veramente fatica e non è un computer da due soldi fa veramente fatica a fare il merge to HDR di cinque foto a 30 megapixel fa veramente fatica per cui sto cominciando a pensare di passare a una R6 per questo motivo perché e poi non credo che lo farò perché Canon EOS R mi piace mi piace quella risoluzione mi piace che abbia 30 megapixel mi piace che abbia lo stesso sensore della 5D Mark IV mi piace molto questa cosa però piace un po' di meno al mio computer quando torno a casa e devo lavorare delle immagini così pesanti faccio fatica faccio molta fatica cioè faccio fatica io fa fatica la mia macchina e questo mi rende un po' meno competitivo perché ci metto più tempo perché il mio computer deve stare lì a pensare e unire queste immagini giganti per cui questo è un motivo che mi sta facendo pensare che forse 30 megapixel quanto meno per questa roba per fotografie di interni forse sono ancora un po' tanti sarebbe meglio 24 quindi dovrei prendere la R6 Mark II e tagliarmi le vene e cacciare fuori il poco sangue che mi è rimasto non credo che lo farò nel 2023 ricordate che ho promesso di non comprare niente quindi non dovrei farlo magari nei prossimi anni si vede però questa è una riflessione che vi butto lì 30 megapixel per fare l'HDR forse sono un po' troppi voi che cosa ne pensate vi aspetto nei commenti fatemi sapere la vostra vi ricordo anche che se questo video vi è piaciuto potete farmelo sapere mettendo un like e soprattutto iscrivervi attivando anche la campanella così rimanete aggiornati sulle prossime uscite a questo punto io vi ringrazio vi avrà passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.